Festival del Cinema e Rassegna per creare il primo festival diffuso d'Italia. La decima edizione dell'Aquila Film Festival, nell'anno del decennale, cambia forma e si trasforma. L'obiettivo è, dal 19 aprile al 14 giugno, quello di riportare il cinema in città, intendendolo come luogo di proiezione, facendo incontrare il pubblico con i registi, gli attori, i professionisti del nostro cinema nazionale. Due mesi di incontri e proiezione. I dieci film proposti varieranno per genere e tematiche. La nuova formula del festival diffuso è pensata per offrire un programma importante e articolato, adattandosi ai tempi e agli spazi della città dell'Aquila. Saranno poi gli spettatori abbonati a scegliere il miglior film. Ci sarà anche il concorso intitolato al critico Lino Micciche per la migliore recensione di film in concorso, perché sia innanzitutto una festa del centro e della comunità. È un momento di passaggio perché il festival da quest'anno cambia pelle, già il periodo è diverso, partiamo d'aprile, e uniamo la rassegna con il festival, creando il primo festival diffuso in Italia. Ci adattiamo alle esigenze della città, agli spazi della città. E d'aprile a giugno facciamo dieci incontri, dieci film, dieci cose diverse. Apriamo con la Siria, con un documentario girato durante la guerra in Siria, e con l'incontro con Danilo Balducci, fotoreporter freelance, che ci parlerà della frontiera di Domeni con le sue foto. Quindi partendo da questo argomento si arriverà a trattare commedie, a trattare cinema d'autore, cinema di genere. Insomma, in due mesi proporremo tante cose e tanti incontri. Verranno all'Aquila tante persone di cinema, registi, autori giovani di opere prime, attori. Insomma, due mesi importanti a disposizione della città.